no vabbè oggi voglio farvi vedere mio figlio come ha fatto il letto cioè nuova nuova tattica nuovo modo di fare il letto vabbè naturalmente i calzini la sua camera i calzini la sua scrivania i suoi fazzoletti da naso e questo suo letto guardate come l'ha fatto perfetto andiamo a vedere sotto ha fatto il letto pigiama perfetto il letto da oggi in poi si fa così e vola bellissimo e ora andiamo a vedere mia figlia come ha fatto il letto beh direi 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 che può andar bene questo nessun lenzuolo per terra la donna e la donna e voi maschietti letto come lo fate no dai ok va bene vi faccio vedere una cosa questo che vedete appeso questo che vedete appeso è vi faccio vedere solo un pezzettino sorpresa solo un pezzettino è il vestito da la sposa perché si sta sposando poi vi farò vedere tutto bene intero ma adesso non si può non si può top si vedete